Il compitante del pubblico è il mio terreno, ah si quindi il proprietario, ecco il proprietario di questi ecco qui le nostre signore, fai palle, corriere sono dall'altra parte, ferma, pausa, aspetta, mi ti fai il 3, ma la mia bella fa che il 3 con la madre, 3 sei tonda si, vai pie, va bene, vai pie, va bene, vai le sto c' produino la mia si lo faccio si, vai, vai vieni, vieni a favore si, vai se, vai io sono davvero l'initore lina è 4 5 euro prima? 6 lina è quattro Domenico lina si te mostro Eichai, sono l'ultimo Inizio 1 Come ti chiami? Buongiorno Come ti chiami? Buongiorno Ma dai Buongiorno Boongiorno Do Profe to I Andi Si With With Grazie a tutti